Buongiorno ragazzi, questa è una foto fatta un anno dopo Hiroshima dagli ammiragli americani che proclamavano la vittoria. Guardate il cattivo gusto, hanno fatto una torta a forma di fungo atomico. Ora vi dico una cosa, in quella esplosione, comunque la si pensi, sono morti migliaia e migliaia di bambini innocenti e questa cialtrona con quel parruccone in testa che va a festeggiare con quei due viscidi gli americani, americani, lo dice la parola stessa, tagna la torta a forma di fungo, tutti belli contenti che hanno fatto una strage di bambini innocenti. Bravi, questi sono gli americani.